Fondo Italia con Daniele Serra che a Fornia Voltri ha ottenuto un terzo posto under 23 ti sei comportato bene anche nella sprint, hai già una buona condizione? Sì, nella sprint pensavo di tribollare tanto di più perché non è proprio tanto la mia gara e poi dopo la prestazione di ieri oggi era difficile comunque fare una buona gara però sono riuscito a tirar fuori un mezzo numero dal cilindro e sono soddisfatto anche di oggi Ecco, sappiamo, quest'anno sei molto motivato, vuoi riprenderti quella nazionale che è stata sempre tua? Quest'anno sì, punto a rientrare in nazionale, qualificarmi per i mondiali under, alati e magari anche per la Coppa del Mondo, perché no? Tornare magari in Coppa del Mondo anche in qualche gara di specialità un po' più tua, no? Peraltro ci sarà anche una tappa a Cogne, quindi non tanto lontana dalla tua Cuneo Eh sì, credo è un bell'obiettivo da mettere sul calendario Ma senti, invece per quanto riguarda tolto il mondiale under 23 e tutto questo, dove credi di dover crescere? Sicuramente nelle sprint, perché alla fine ho visto anche oggi quello che mi manca La sparata finale sugli ultimi chilometri mi manca, mi è mancata ieri, mi è mancata oggi alla fine Purtroppo le sprint sono un mestiere che si impara solo facendo Senti, quanto è stato utile il centro sportivo esercito quest'estate per te? Nel senso che comunque, non lo state che sia solo tesserato da aggregato, ti hanno tenuto e ti sei allenato con loro? Sì, mi hanno dato una grandissima mano, perché sennò avrei dovuto allenarmi da solo a casa E lavorando in azienda con mio papà non ce l'avrei fatta Invece così col centro sportivo esercito sono riuscito ad allenarmi bene E i risultati iniziano a vedersi Grazie mille Grazie mille